buongiorno da hobby shop bomboniere.it oggi abbiamo in vetrina un oggetto molto curioso si compone di quattro cerchi di plastica con spine altrettanto in materiale acrilico e ci chiediamo cosa si può realizzare vediamo anche al centro un ago e un libretto di istruzioni e questo il telaio circolare questa è la sua bella scatola regalo di scritta in inglese appunto set di maglieria magica rotonda per quattro ideale per realizzare cuffie e perretti ad esempio in primo piano vediamo la lana acrilica che abbiamo in offerta questi sono solo alcuni degli oltre 12 colori disponibili e poi ancora il libretto che ci dà tante belle idee di lavorazione di maglia facile con il telaio ecco vedete istruzioni passo a passo proprio con questo modello e partiamo già da un esempio di cuffie a berretto con un scaldacollo eccoci anche a seconda del filato cambia di grande l'effetto finale l'inverno è alle porte e noi ci prepariamo con caldi capi di abbigliamento veloci da realizzare grazie al telaio grazie a tutti grazie a tutti